Tutto pronto? Subito in prima linea all'interno White Lips nei confronti a largo di Monica che insieme a Mia Siu emergono dal gruppo. Anche Sharadze punta la via larga mentre Incantatrice si acquatta in corda seguita da Majeste Tijana e Talaya Spirit. Monica in testa in maniera piuttosto gagliarda seguita da White Lips in giuba verde con le maniche al cap bianche. Al terzo posto si mantiene Mia Siu in giuba verde Incantatrice con le maniche al cap rossi segue al quarto avendo vicino con il cap oro Sharadze. Poi ancora per le corsie esterne rimane in posizione lacrima d'amore con la giuba Scacchi seguita in corda da Talaya Spirit in giuba viola. Poi ancora più dietro Majeste Tijana che lascia in ultima posizione The Dams che è davanti a sede Adelaide. Passato paletto degli 800 per Monica che scappa via traguardo lontanissimo all'intersezione delle piste. Il gruppone lascia fare con White Lips che si porta sotto con Mia Siu al terzo Incantatrice per via interna. A largo invece si mantiene Sharadze seguita da Majeste Tijana e Lacrima d'amore a Talaya Spirit, Deadline e The Dams. Queste le posizioni con Monica che è sempre in vantaggio sul gruppone che si avvicina. con Incantatrice che muove sulla stessa Mia Siu. Poi a largo di tutti Deadline e Sharadze che intervengono insieme a Majeste Tijana e Te. A largo di tutti The Dams in leggere vedenza White Lips su Incantatrice che scatta in mezzo Mia Siu. Poi Sharadze, Deadline all'ultimo farlo, Incantatrice che va su Mia Siu. A largo c'è anche The Dams che sta finendo forte. Incantatrice contro The Dams, Incantatrice che dice di no a The Dams, al terzo Mia Siu. Incantatrice va alla meta da favorita e lo fa regalando un'ennesima gioia al suo team. In sella c'era Sergio Urru. Sergio, lasciare la parola ai tuoi proprietari, ma prima ti facciamo una domanda. Come ti sei trovato? Ma direi che decisamente questa vittoria è per Zio Torre e Basile perché comunque cadere il giorno prima, insomma, data così. Una grande professionista, oggi con 61 kg, un'andatura davvero veloce. Si è presentata bene ai 400, quando poi l'ho chiamata subito allungata. Invece il sio Leonardo Cesare dell'Ipodio di San Siro, alla persona che meno merita questa coppa, in realtà no, ma Sergio Urru, complimenti per la sua grandissima monta di Incantatrice. Complimenti dunque a tutto il team, vi chiedo, premiati e premiatori, di avvicinarsi tutta per una mega foto generale, a linea che torna alla nostra regia. Grazie. 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 Grazie.